Buonasera amici e tifosi, ci rivediamo, bentornati a tutti, è ricominciata la Serie A e noi ci presentiamo puntuali, così come ha fatto oggi Napoli e qualche altra squadra di cui ci si aspettavano i tre punti, ci presentiamo puntuali all'appuntamento con la vittoria, quindi per dire che noi nonostante il mercato sia andato come è andato, l'Europa è spoglia dei suoi talenti migliori, noi abbiamo fatto il nostro e penso che almeno in ambito nazionale, quindi mi riferisco a Coppa Italia e campionato, possiamo quest'anno dire la nostra ottima prova dei vecchi, discreta già presentazione dei nuovi, quindi subito Arnauto vince un bel assist, il quadrato qualche cosina delle sue la fa vedere, purtroppo ancora va digerito da interista, però che dire ragazzi, vi auguro a tutti buon campionato, vi dico sempre amala e restiamo in attesa degli altri cambi per capire un po' che succede dopo questa prima